Tutti i più grandi nomi della musica popolare del centro Italia, centinaia di suonatori di zampogna provenienti da tutto il paese. Questo è il festival nazionale ed internazionale della zampogna, andato di scena durante il fine settimana ad Acqua Fondata. Due giornate non stop di musica organizzate dal comune con la collaborazione artistica di Benedetto Vecchio. La Kermess quest'anno ha festeggiato la sua 43esima edizione, ma i fondi a disposizione dei comuni per questo tipo di eventi sono sempre meno e anche questa Kermess il prossimo anno è a rischio. L'augurio che ci sia questa 44esima edizione, ma non in queste condizioni però, lasciamelo dire perché non può essere. È una manifestazione che deve poter fare affidamento su qualcosa di certo. Lo dico tutti gli anni ma nessuno mi sente, io alla fine mi scoccio e questa manifestazione non l'organizzo più. È bellissima e perderemo sicuramente qualcosa di importante. Importante l'impegno della Regione Lazio al fine di salvaguardare una delle tradizioni folcloristico-culturali del territorio ciucciaro. Anche quest'anno la Regione sosterrà questo festival assieme all'amministrazione comunale perché è giusto continuare questa bella tradizione, perché oltre quindi alla passione popolare c'è un'occasione importante di promozione del nostro territorio. Le nostre tradizioni possono diventare davvero una nostra risorsa economica, basta guardare le presenze di oggi che sono qui. Un evento reso possibile anche grazie alla provincia di Frosinone ed altri privati come la Banca Popolare del Cassinate. Davvero complimenti a tutta l'organizzazione, agli amministratori di questa città per quello che stanno facendo per tenere in vita questa manifestazione. Certamente di questi tempi, tempi difficili dal punto di vista delle risorse, tenerle in vita è sicuramente una grande cosa. Sul palco anche il ritmo dei suoni del Centro Italia con i concerti della Giuliano Gabriele Insomble e di Benedetto Vecchio MBL. Sono convinto di aver selezionato le band che meglio rappresentano la musica popolare, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale. Questa passione nasce da quando ero bambino praticamente, ho mantenuto vivo il ricordo degli zampognari che passavano per casa, per le strade, entravano nei condomini e portavano la gioia e l'allegria.